E dov'è che volete andare voi ragazzi? Parigi. Parigi, Londra. Londra. Durante il periodo del vostro soggiorno dovrete attenervi alle norme, diciamo così, culinarie e al fuso orario del posto dove vi trovate. Non si potrà entrare nella stanza del partner. E quant'è che state insieme? Un anno e mezzo. Pensavo di più. No. No, siete molto affiatati. No, siamo affiatati perché viviamo in 30 metri quadri. Senti, se sono qua è perché sono il capolinea. Ho appena accettato una paga da 350 euro al mese. Voglio vedere se le palle di andarmene e rifiutarla. Un brindisi e viva la vita. Viva la vita. Evviva, evviva. Il problema non è qui fuori, lì dentro. I tuoi amici. La professoressa di francese, l'ingegnere meccanico, l'attore. Nessuno ti dice la verità. È il luogo della bugia, quello. È il luogo del teatro, della finzione.